Grazie a Luca Gaburro per il suo intervento, è stato bravo perché effettivamente non si è cavallato. Avete dei punti in comune naturalmente perché è una battaglia questa, così l'ha definita lei Bufi prima, una battaglia condivisibile. Voglio tranquillizzare Gaburro perché c'è stato un momento di movimento in platea eccetera, soltanto perché stiamo aspettando il Presidente Berlusconi che appunto dovrebbe portare un saluto al convegno. Insomma questo naturalmente rende la cosa ancora più importante se mai ce ne fosse bisogno oltre alla presenza dei rappresentanti politici. Io con un certo imbarazzo adesso, devo dire la verità, dovrei dare la parola al Presidente Righi, è uomo di spirito quindi mi permetto di scherzarci. Perché se per Gaburro non era facile intervenire dopo Bufi, immagino lei dopo Bufi e Gaburro appunto che cosa può esserci. No ma a parte gli scherzi, le do subito la parola. I due rappresentanti che hanno parlato prima parlavano a nome di categorie che sono inquadrati nella sarco, invece l'associazione, la federazione che lei presiede non lo è, quindi questo ancora di più rende diciamo curiose le aspettative rispetto al suo intervento. Però siccome cerco di essere di parola, almeno di mantenerla, insomma è una cosa non sempre facile, io vorrei chiederle però di prendersi una responsabilità ancora di più. mi racconta, anzi ci racconta, chi non lo sa bene, la storia del fondo Antracite, le Cayman eccetera, perché è una cosa, se qualcuno già la conosce mi scuserete, io la trovo veramente una cosa, proprio in maniera stringata, perché questo è un elemento in più che ci fa inquadrare ancora meglio la situazione. Buongiorno a tutti, grazie, grazie anche alle... Io vedete, noi abbiamo fatto un anno e mezzo di tavolo con le Nasarco perché le Nasarco ha cominciato a mandare gli ispettori dentro tutte le nostre agenzie, dicendo praticamente dateci i soldi. e levando multe, mandando lavoratori, perché se siamo anche in giacca e cravatta noi siamo lavoratori e vorrei che fossermos considerati tali con questa dignità. Ci hanno cominciato a fare ispezioni, a mandare la gente in tribunale e le Nasarco, a convocati, hanno detto guardate la vostra categoria è cooptata, è cooptata le Nasarco. Allora ho cominciato a informarmi, ma chi è questa in Nasarco? E non ho fatto indagini modello Gabanelli o meno, ho guardato gli atti parlamentari, le interpellanze, le risultanze della Corte dei Conti e ho scoperto che i gestori di questo ente, ho scoperto cose che già si sapevano, hanno investito ad esempio 800 milioni di euro in un fondo estero alle Cayman. E allora dico, ma come? Questi investono alle Cayman, fondo estero, ma non è che diciamo tutti i giorni, la politica, noi le tasse devono rimanere in Italia, le dobbiamo pagare, questi investono alle Cayman. Ma controllati dal Ministero del Lavoro. E poi cosa succede? Scopro che nel 2008 fallisce Lehman & Brothers e scopro che le Nasarco ha perso 800 milioni di euro alle Cayman. E dico, ma io dovrei trascinare tutta una categoria all'interno di questa Nasarco? Ma ancora di più, vado avanti e scopro che un amministratore, suppongo, un gestore, qualcuno che è stato messo lì per gestire questo ente, vende il credito di 800 milioni di euro prosoluto a una società olandese. Quindi gli dice, guarda, ti cedo il credito, dammi 300 milioni e non ci pensiamo più. E dico, insomma, nel dolore hanno risparmiato qualcosa. Cosa succede? Dopo due o tre anni arriva questa società olandese, chiama i Nasarco e dice, guarda, mi deve dare indietro i miei 300 milioni di euro più gli interessi. E l'amministratore dice, ma no, ma era prosoluto, sembra una barzelletta. E gli olandesi dicono, guardi, è prosolvendo. Quindi noi abbiamo, io dovrei fare amministrare, e qui è seria la cosa, i soldi, i risparmi di persone che tutti i giorni lavorano da persone che non sono in grado di comprendere cos'è un credito prosoluto e prosolvendo. No, grazie a Nasarco. Questo è il ragionamento che noi abbiamo fatto. Al di là di tutte le incostituzionalità dell'ente, al di là del fatto, perché ci sono norme di costituzionalità, da valutare sul fatto che, in questo Paese, l'hanno accellato prima i colleghi, sul fatto che una prevendenza complementare debba essere obbligatoria. quindi il tema, dopo aver ragionato, il tema che ci siamo posti è dove mettiamo i nostri soldi? Questi saranno versamenti, se noi accettassimo di confluire in Nasarco, saranno versamenti che andranno a migliorare il momento della vita dei nostri lavoratori quando andranno in pensione oppure no? E io dico di no. Perché il fatto che io non possa ricongiungere i soldi delle Nasarco con quelli dell'Inps e che nessuno dica niente, fa a cazzotti con quello che sta dicendo la politica anche in questi giorni con la riforma del lavoro. Sono dieci anni che ai nostri giovani diciamo siete dei bamboccioni, dovete andare fuori di casa. Fare sempre lo stesso lavoro, poi vi ricordate chi le ha dette queste cose, è noioso, cambiate lavoro. La mobilità del lavoro, ok, siamo d'accordo, ma se io dico a un mio agente immobiliare pagale in Nasarco, pagalo per otto anni e poi visto che è bello cambiare lavoro o forse è anche possibile che ti fallisca l'azienda, noi costringiamo queste persone a versare soldi alle Nasarco che sappiamo coscientemente non avranno mai indietro. Questa non è giustizia, non è etica in un paese normale. Allora, io penso che la riunione di oggi, il convegno di oggi abbia un senso, ringrazio Buffi, ringrazio Luca Gaburo, tutti gli associati di queste associazioni, perché? Perché è che tre associazioni con politiche diverse, con ambiti diversi, trovino la forza di andare contro quelli che sono i poteri forti, perché qui ci sono i poteri forti, ci diciamo sempre, ma i poteri forti dove saranno? Qui la politica è quella che conta meno forse. Qui c'è il mondo dell'associazionismo, andate a vedere chi nomina gli amministratori all'interno di Nasarco. Allora, e poi mi taccio, allora l'Italia non è brutta solo perché c'è la politica, è brutta perché i poteri forti sono trasversali e le persone seri ci sono sia nella politica sia nelle associazioni, ma poi quando il potere, la gestione del denaro, ti porta a fare quello che è accaduto in Nasarco, allora noi diciamo no, diciamo assolutamente no. sulla gestione del patrimonio immobiliare di Nasarco, ma noi siamo agenti immobiliari, permettete, abbiamo i promotori, quindi sono capitati male anche quelli delle Nasarco, tu non puoi svendere un patrimonio e vendere per prima le cose belle e quelle brutte te le tieni, perché la gestione di un patrimonio immobiliare è una cosa seria, che non va rilasciata a qualcuno che forse non ne capisce nulla. A me sarebbe piaciuto vedere, scoprire nelle carte quando ho fatto l'indagine un piano serio. Sono sette anni che questo Paese sta uccidendo l'immobiliare, sono sette anni che questo Paese, dalla crisi del 2008, scusatemi, sono tre anni che l'immobiliare è sotto scopa. Noi siamo passati da una tassazione di 10 miliardi di euro a 33 miliardi dell'ultimo aumento della tasi. Allora, di che cosa stiamo parlando? Le Nasarco non si è accorto che succedeva tutto questo, dove viveva. Cosa vuoi dismettere? Che le vendite sono passate da 880 mila a 400 mila vendite del 2013, che il comparto dell'immobiliare ha perso 750 mila posti di lavoro e che questi disoccupati, se avessero pagato le Nasarco, avrebbero avuto la doppia beffa di essere licenziati, di aver versato i soldi alle Nasarco e di diventare silenti, e forse di non ricevere neanche gli 80 euro, perché i famosi degli ultimi. Grazie. Grazie al Presidente Righi, grazie in realtà a tutti e tre, perché siete bravissimi, devo dire la verità. Siete bravissimi non perché siete tre contro uno e mi fate paura, naturalmente, ma semplicemente perché siete chiari e siete coincisi nei tempi. Vevo detto che la storia di Antracita è favolosa. Dobbiamo scriverci un libro su questo, perché lei veramente, se dovesse andare male, forse può fare il giornalista anche. Non è questione del giornalista. Che andrà peggio poi a quel punto. E che mi piacerebbe molto, che quella che si dice solidarietà non ci fosse solo per coloro che sono visibilmente in difficoltà, ma anche per tutto quel popolo definito silente che ha la dignità di soffrire in silenzio. senza nessun appoggio e senza l'aiuto di nessuno. Noi siamo qui anche per quelle 500 persone, 500.000 persone che oggi soffrono e forse non hanno il coraggio nemmeno di alzare e dire sono in difficoltà. Devo rettificare. Sì, scusate, c'è un... Sì, prego. Qualcuno di voi lo sa. Un genato. Io credo che noi siamo condannati dall'Europa ogni anno a pagare una multa per le due previdenze che non possono sussistere. Vorrei credo perché in Francia io ho dei colleghi che hanno un solo ente previdenziali. Noi paghiamo una multa ogni anno. Noi siamo noi. Guarda, le posso chiedere una gentilezza per una questione proprio del dibattito. Subito dopo ce lo dice. Ce lo dice magari qui dal podio così lo sentiamo tutti quanti. Adesso andiamo un po' avanti anche perché devo fare una rettifica. Chiedo scusa, il giornalista, lei no, il politico deve fare. Un'altra cosa veramente. A parte gli scherzi e a parte tutto. Allora, la politica è stata tirata in ballo. inizialmente non è stato troppo lusinghiero poi ha recuperato, ha detto ci sono delle brave persone. Ho detto quello che è bene. Esatto. E una di queste è la senatrice Rechiuti. Posso chiederle di dirci qualcosa e gentilmente se possa riequi per una questione proprio organizzativa perché tutta questa platea aspetta delle risposte dalla politica. Voi siete i nostri rappresentanti ed è naturale. Prego. Grazie.